Noi abbiamo vinto nella categoria Skin Care, quindi abbiamo presentato una BB Cream interpretata in versione Eco Beauty e l'abbiamo chiamata BB Green. Quindi abbiamo cercato di unire il concetto Eco e sostenibile nelle tre componenti, quindi sostenibilità ambientale perché il prodotto era un prodotto certificato bio, sostenibilità economica perché all'interno conteneva un ingrediente di solidale italiano di altro mercato che è la prima centrale di commercio Eco in Italia, la seconda nel mondo, e sostenibilità ambientale, sociale ed economica perché appunto c'era il concetto proprio del solidale unito all'interpretazione del nutrimento che è il tema dell'Expo 2015. Il nutrimento l'abbiamo interpretato inserendo appunto l'olivo però in tutte le forme tecniche presenti nell'emulsione, quindi abbiamo utilizzato un emulsionante di olivo, una fase oleosa, una fase acquosa di olivo con tutti i principi attivi brevettati e prodotti in Italia, quindi anche con una componente made in Italy.